Il referendum del 25 maggio ha spento la norma che dal 1983 aveva reso praticamente impossibile abortire in Irlanda. Per i fautori del sì adesso è tornata la libertà, che negli ultimi decenni era stata negata e aveva costretto migliaia di donne irlandesi a recarsi all'estero per l'interruzione della gravidanza. Le parole degli elettori dimostrano quanto sia stata sofferta la battaglia. Sono felicissima e stasiata, aspettavo questo momento da molto tempo. Avevo votato nel 1983 e questa è una grande vittoria per le donne, per gli uomini, per le future generazioni. Sono emozionata, è una notizia magnifica. È un inizio per correggere i torti della storia irlandese. Il maggiore gruppo antiabortista parla di tragedia di proporzioni storiche, ma sottolinea che un errore non diventa una cosa giusta solo se la maggioranza lo approva. Il timore dei tradizionalisti è l'approvazione di una legge molto permissiva. La campagna del No, che ha incoraggiato gli elettori a mantenere il divieto, ha riconosciuto la sconfitta. Gli attivisti dicono che sono delusi dei risultati, ma continueranno la battaglia su questo tema. Il primo ministro irlandese, Leo Varadka, che è un medico, sostenitore del SII, parla di vittoria storica. ha detto che è stata una storica vittoria. Vincent McEvini, Euronews, Dublin.